Visto che prima abbiamo sentito in apertura del tre giornali il sindaco Marino, stiamo dando voce a tutti, è giusto darla anche ai sindacalisti dei vigili urbani romani. Siamo con Carola Di Misio, peraltro Carola, il sindaco, ha fatto capire che per chi ha barato, tra virgolette, con il certificato medico, sarà giusto andare a portare avanti la pena più severa, non esclude neanche il licenziamento. Sì, eccoci ancora, buongiorno Gianluca, ci troviamo qui in Piazza del Popolo con Romolo Bonarota del sindacato DICAP, è giusto allora punire chi eventualmente ha barato la notte di Capodanno? Parliamo naturalmente dei vigili e delle polemiche che ci sono state. Il sindaco ha detto che è giusto punire con la pena più severa. Sì, sì, ma dovrebbe cominciare da se stesso, dal comandante del corpo, dal vice sindaco e probabilmente anche dallo stesso premier, perché dal momento che è stata la polizia locale di Roma, 5.970 lavoratori e le loro famiglie sono stati sottoposti a una gogna mediatica assolutamente indecorosa, in quanto lo stesso comando del corpo oggi fornisce dati più reali. Quali sono questi dati? E risulta che sono soltanto 44 gli ammalati la notte di Capodanno. Non l'83% come è stato? Sicuramente siamo al 4,3% rispetto della forza che doveva essere disponibile. Quindi siamo in una realtà assolutamente fisiologica. Tra l'altro, se dovessimo proprio parlare di sentismo, la polizia locale rispetto agli altri dipendenti comunali di Roma, oggi come oggi, rappresenta proprio quella fascia di minore assenza dal servizio. Senta, noi abbiamo fatto prima un giro qui per capire qual è la situazione a Roma, no? Sappiamo che, insomma, con i vigili si hanno rapporti, come dire, un po' controversi. Qui le persone un po' se la prendono con i vigili, non ci sono controlli. Secondo lei, come mai? Mancano i vigili? Ma è normale che questo avvenga. Noi abbiamo, per la legge regionale 1 del 2005, la necessità di essere 9.300-9.400 sul territorio. L'organico che è previsto sono 8.450, invece in realtà siamo 5.970. Quindi la metà di quelli che realmente servono. In più, non solo, questo personale deve essere diviso sulle 24 ore. In più, ancora, c'è personale. Il personale è maggiormente anziano, perché abbiamo una media di 48 anni. Quindi, chiaramente, è ovvio che le persone hanno ragione a lamentarsi. Ma non è da dibotearsi al singolo vigile, in questo caso neanche al comando del corpo. Qui, purtroppo, vanno assunti. Noi abbiamo un concorso che è purtroppo fermo, ormai da anni. Il sindaco, invece, ha detto che questo concorso, invece, adesso è ripartito. Quindi ci sarebbero il concorso di 300 agenti. Sta procedendo con una lentezza di lumaca. Ma purtroppo, devo smentire, perché una settimana fa, dieci giorni fa, ci hanno presentato un, diciamo, il programma assunzionale, di cui parla che per il 2015 non c'è nessuna assunzione. Intanto i colleghi, però, vanno in pensione. L'ultima cosa le volevo chiedere. C'è uno stato di agitazione? Lei ce lo può confermare? Poi, lo sciopero dell'11? Assolutamente uno stato di agitazione c'è e rimane. Ci saranno altre, diciamo, attività di tipo sindacale. Per quanto riguarda lo sciopero, ancora deve essere fissata una data da tutte le organizzazioni sindacali. L'11 gennaio che cosa accadrà? Quella poteva essere una data? Molto probabilmente, se si raggiungerà, diciamo, un accordo tra tutte le organizzazioni sindacali, potrà esserci un'assemblea, non certo uno sciopero. Comunque, disagi? Ma ci saranno disagi per il derby, non ci saranno disagi per il cittadino normale. Ma, del resto, l'amministrazione si deve rendere conto che non può che assumere. E assumendo, forse, avremo quel personale per poter lavorare su tutti i campi della Polizia Locale, che sono oltre 600 le leggi che noi applichiamo. Grazie, ringraziamo il nostro ospiteggio.